Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nel corso di distinti contestuali accessi ispettivi operati su tutta l'area metropolitana 143.000 articoli sanitari contraffatti e non sicuri, tra mascherine, visiere, guanti, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quale l'importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. In particolare nel capoluoco sono state sequestrate in due empori cinesi della zona industriale oltre 100.000 tra mascherine chirurgiche, visiere, termometri e saturimetri non a norma, privi di marchio o con falso marchio di conformità CE. In provincia, tra San Giorgio a Cremano e Del Colano, sequestrate oltre 16.700 tra mascherine e guanti lattice, privi di informazioni in lingua italiana, in negozi di casalinghi gestiti da cittadini cinesi e presso un disegnatore grafico. A Marigliano, Acerra, Torre del Greco e Forio, sequestrate oltre 5.600 mascherine pseudoprotettive, prive delle indicazioni obbligatorie e con falso marchio CE, presso quattro negozi di articoli per la casa. Anche tra Castellammare di Stabia, Pompei, Giuliano in Campania e Villa Ricca, sequestrate in quattro negozi gestiti da cittadini di origine cinese, 12.200 tra mascherine monouso e visiere con indicazioni esclusivamente in lingua cinese e con falso marchio CE. Denunciati nel complesso l'autorità giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi, sette soggetti sia italiani che stranieri e segnalati altri sette alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. L'operazione rientra nel quadro dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e repressione della contraffazione, uno dei fenomeni su cui maggiormente si concentrano le speculazioni legate all'emergenza Covid-19, programmata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a tutela dei cittadini in concomitanza con il recente passaggio della campagna in zona gialla.